Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a parlare soprattutto degli ultimi match italiani che ci sono stati in questa quarta giornata di Champions League Mi invito sempre a iscrivervi al canale, lasciare un like, a te la campagna per stagione sui miei contenuti Parliamo prima del Napoli Un Napoli veramente pazzesco, un Napoli da fare veramente complimenti a spalletti Che nonostante tutte le situazioni che hanno passato, tutti i momenti che hanno passato tutta l'estate Con la perdita soprattutto di giocatori veramente importanti come Insigne, Mertens, Colibali Giocatori veramente di grande livello Dove il Napoli ha trovato soprattutto la forza di continuare questa strada La strada quella del campionato di Serie A, la strada quella di Champions League Che sono due cammini veramente importanti, difficili da percorrere Ma nonostante tutto in questo inizio di campionato, in questo inizio di Champions League Abbiamo visto un Napoli veramente pazzesco Un Napoli che gioca al calcio, un Napoli che disegna spettacolo e disegna soprattutto emozioni Tifosi partenopei veramente increduli di vedere questa squadra giocare un bel calcio Quattro vittorie in Champions League, tanti risultati positivi in campionato Tra cui la prima posizione di classifica raggiunta con 23 punti Dietro a tante squadre molto importanti Il Napoli sta lì in prima posizione che regala soprattutto emozioni a questi tifosi Che veramente se lo meritano dopo tanto tempo Vedere la propria squadra, vincere e regalare emozioni Come stanno facendo quest'anno, non è mai successo Abbiamo visto un Napoli che dopo quattro partite di girone Ha regalato tutto golle, emozioni Ha regalato calcio, ha regalato spettacolo Ha fatto capire che una squadra che ha dei obiettivi ben precisi Scusate il termine, obiettivi ben precisi Obiettivi che vuole raggiungere automaticamente E non vuole assolutamente rinunciare a provare almeno arrivare fino in fondo In questa Champions League e vuole arrivare tutto fino in fondo Soprattutto in campionato Quel campionato dove vuole vincere quello scudetto Che manca d'assai tempo Una squadra che con quei giocatori presi nel calciomercato Parliamo di un certo Don Belè Parliamo di un certo Carascelia Parliamo di altri come Raspadoli, Simerone Che con l'assenza di Ozyman hanno fatto veramente la differenza E' entrato pure Ozyman, Ozyman ritorna al gol Tante emozioni Grande Ozyman, grande feud del gol Grande Studia veramente bene Il movimento degli avversari Sa quando attaccare, sa quando reagire Un Napoli che bisogna fare veramente i complimenti A questa squadra che sta regalando Tante emozioni E sta giocando veramente un gran bel calcio Sta dimostrando di essere superiore a quelle squadre europee Parliamo di Ajax, parliamo di Liverpool Sono squadre veramente di alto livello Dove il Napoli Con una squadra veramente pazzesca Regala queste emozioni A questi tifosi partenopei Ora parliamo dell'Inter Un Inter che parlavamo di un Simone Inzaghi Che rischiava l'esonero Ma poi dopo quell'ultimatum Dato dalla società dell'Inter A Simone Inzaghi Poi tutto si è trasformato In una grande reazione In anima e cuore Messa su tutti i giocatori in campo Parliamo di un'altra squadra italiana Che vince 1-0 In casa Con un fallo di mano Di Danfris Sospetto Tutti in area di rigore Partita che porta a casa Tre punti molto importanti Ma poi parliamo Di una partita di ritorno Dove gioca il Barcellona in casa Al Campion d'Inter Ritorna a giocare Contro il Barcellona Ma abbiamo visto un Inter Che Veramente Manca pochissimo Manca pochissimo Per fare veramente Il colpo Per fare veramente L'impresa Un'impresa Dove l'Inter In questa partita Ha messo anima e cuore Ha fatto vedere Di che razza È fatta Una squadra italiana Che dà sempre soddisfazioni A noi italiani Vedere le squadre italiane vincere Soprattutto Squadre come Inter Napoli Juventus Dispiace Riminane Che viene penalizzato Soprattutto Dall'arbitraggio Dispiace anche Per la Juventus La situazione di crisi Che sta passando Ma vedere questo Inter Che reagisce Va sul 2-1 Poi viene Raggiunto Lewandowski Poi va sul 3-2 Con Gosens Gole veramente pazzeschi A entrambi i due lati Ma un Inter Che Ha messo tutto Nonostante tutta la squadra forte Che aveva contro Ha messo tutto Anima e cuore Impegno Ha messo veramente Intelligenza Ha trovato veramente Dei fantastici gol Peccato per il gol sbagliato Di Aslani Che poteva costare Il 4-3 E chiudere Questa partita Perché c'è tanto Rammarico Tutta la parte Di tifosi Nerazzurri Non aveva portato Tre punti a casa Perché veramente Meritavano Questi tre punti Abbiamo visto Le partite Sia di Napoli Che sia di Inter Sono state Partite pazzesche Partite dove Il calcio Si gioca Partite dove Avevo visto Squadre italiane Che hanno messo Il cuore in campo Un cuore Veramente enorme Un cuore Che Sa Di reazione Sa Di Rialzarsi in piedi Combattere Fino alla fine Quindi Ragazzi Tifiamo sempre Squadre italiane In Champions League Veramente Vedere le squadre Italiane Che giocano Questo calcio E' una grande Satisfazione Per noi tifosi Italiani E quindi Peccato Perché Poteva vincere L'Inter E se vinceva E' una grande Gioia Per questo Soprattutto Questa partita Una partita Dove Simone Zaghi Ha messo Tutto Il suo Impegno Quindi Secondo me A mio parere Veramente Merita La panchina E merita Di restare Soprattutto In questa squadra Simone Zaghi Perché veramente In queste tre partite Ha dimostrato Che L'Inter C'è E l'Inter Combatterà Fino alla fine Quindi Fatemi sapere In questi commenti Cosa ne pensate Questo è il mio pensiero Ho visto Le squadre Rialmente Pazzesche Moduli Meramente messi Sistemati Formazione In campo Sistemate Giocatori Che hanno dato L'anima Fine in fondo E' un giocatore Che non si è visto Quasi mai Si parla Di Gosens Che ha fatto Che ha fatto Un bellissimo Gol Contro Il Barcellona Martinez Altrettanto Bale Altrettanto Ma Diamo anche Complimenti A Barcellona Che ha segnato Dei gol pazzeschi Come Lewandowski Che non si arrende Fino in fondo Sappiamo che è un giocatore Che Si gioca Partita Fino in fondo Fino all'ultimo minuto Ma Complimenti Soprattutto All'Inter E al Napoli Che regalano Spettacolo E calcio Soprattutto A noi Tifosi italiani Bella ragazzi Soprattutto